Ha voluto dire alla vostra vita, carissimo Benedetto e Jessica, che oggi state costruendo con l'aiuto di Dio questa famiglia cristiana, il Meli Amore. Noi oggi non stiamo celebrando una delle tante tappe della nostra vita, segnate da tante salite e discese, voi oggi state celebrando l'amore, ma non solo l'amore che voi due vi siete dichiarati nel giorno che vi siete conosciuti, che vi siete innamorati, ma oggi noi stiamo celebrando l'amore che Dio ha per ciascuno di voi. 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 Ciascuno di voi.